Ogni volta che si parla di sparatorie negli Stati Uniti si mette avanti un discorso che ha ovviamente un suo senso, cioè quello dell'impossibilità di comparare gli avvenimenti che coinvolgono gli interi Stati Uniti, che ospitano 330 milioni di persone, con realtà estremamente più piccole. Qualche giorno fa saprete esserci stata una sparatoria in Danimarca, infatti, nella capitale, Copenhagen, e quando nell'opinione pubblica americana si è fatto notare che quindi anche nella Pacifica Danimarca avvengano le sparatorie, e quelli hanno ribadito che non ne avveniva una dal 2015, altri ancora hanno evidenziato che sì, questo è vero, ma in Danimarca abitano 5 milioni di persone, cioè sostanzialmente al mondo esistono tanti laziali quanti danesi, e i lombardi sono addirittura il doppio dei danesi. Quindi, ovviamente, non è la stessa cosa. E però, è però, il problema è che le sparatorie negli Stati Uniti non soltanto sono comunque tantissime, anche se comparate al resto del mondo in pace, ci sono vari metodi per calcolare questo dato, ma alla fine si arriva sempre all'unicità degli Stati Uniti su questo aspetto, ma è anche evidente che il mondo contemporaneo ha reso questi eventi più frequenti per lo spaventoso fenomeno di emulazione, per cui per gli attentatori è facilissimo mostrare le loro azioni, con le videocamere, sui social, in streaming addirittura, ed è altresì facile poi che attorno a queste figure si creano dei miti, dei culti, per cui quando l'attentatore lo prendi, dopo che si è messo a sparare sulla gente, è probabile che addosso, nel computer, tra la sua roba, si finiscano per trovare i riferimenti ad Anders Breivik, a Luca Traini, a questo o quell'altro attentatore. Fate conto, io ho ancora impresse nella mente le immagini dell'attentato che era venuto a Christchurch, in Nuova Zelanda, nel 2019, quello che l'attentatore aveva mandato in streaming prima di uccidere 51 persone, iniziando la live, invitando a iscriversi al canale di PewDiePie, vi ricordate? Proprio perché quelle immagini le ho viste, non le dimentico, e posso solo immaginare l'effetto che certe cose possono avere nella mente di un individuo che poi è portato all'emulazione, pronto a fare una cosa del genere. Ecco, ieri è successo di nuovo, 4 di luglio, festa nazionale negli Stati Uniti, parate, sia un ragazzo di 22 anni a Chicago, sia un altro uomo ancora non identificato a Filadelfia, hanno aperto il fuoco sulla parata organizzata in città. A Filadelfia ci sono due polizioti feriti, mentre a Chicago sono morte sei persone, la cui unica colpa è essere usciti di casa per andare a vedere una parata in un giorno di festa. E anche in questo caso l'attentatore giovane, 22 anni, pare vicino agli ambiti suprematisti, sapremo di più nella giornata tra oggi e domani, quando sarà formalmente accusato dopo essere stato arrestato ieri sera. Ora, sapete cos'è l'aspetto che più mi colpisce di tutto questo? Che, di nuovo, ci sono i video fatti dai telefoni, la gente che scappa, raggiunta dal fuoco del ragazzo che si è arrampicato su un tetto e si è messo a sparare da lì con un fucile, quindi urla, panico, ma mentre quei video saranno l'ennesimo stimolo all'emulazione, perché tanto lo sappiamo come va, le dinamiche sono sempre quelle, questi video per certe persone non sono nient'altro che delle medaglie al petto degli attentatori, noi ci desensibilizziamo, perché è l'ennesima sparatoria e per l'ennesima volta persone muoiono raggiunte dai colpi d'arma da fuoco, o travolte da un camion o quello che ci pare. Quindi un po' mi chiedo se questa è la nuova normalità, cioè una che da una parte è alimentata da questo stesso flusso di informazioni online che a noi desensibilizza, perché poi non siamo in grado di gestire troppe informazioni, ad un certo punto è normale filtrare, ma dall'altra è una realtà in cui ogni tanto, quando sei in pubblico ad una manifestazione, al centro commerciale, ad una festa, finisce che un po' te lo devi anche aspettare che qualcuno si metta a sparare sulla folla. Dopo l'11 settembre mi ricordo che tanti avevano paura di prendere l'aereo, proprio per quanto traumatica era sta quell'esperienza, di grande impatto, nessuno se l'aspettava. Ora invece è un po' diverso, ci siamo un po' scivolati dentro, e non so dire a quanto inconsapevoli siamo del livello di violenza al quale ci stiamo abituando. Non so. Bentornati su Breaking Italy, sempre belle notizie da queste parti, me ne rendo conto. Parlavamo di Stati Uniti, e pare che l'amministrazione Biden sia sotto l'occhio del ciclone per una chiamata tra il segretario di Stato Blinken, che sarebbe la controparte statunitense del nostro ministro degli esteri, e i parenti di quei cittadini degli Stati Uniti che al momento si trovano in ostaggio o ingiustamente detenuti in alcuni paesi, come la Russia per citarne uno, ma anche altri come il Venezuela o il Rwanda. E la ragione per cui si sta molto parlando di questa chiamata è che pare siano state escluse tutte quelle famiglie di quelle persone che si trovano in quella situazione in due stati. L'Egitto, come abbiamo sperimentato anche qui in Italia con Zaki, non esattamente il ritratto della giustizia, e l'Arabia Saudita, che è un altro caso interessante. Stando ai racconti di una delle persone che vi hanno partecipato, durante questa chiamata Blinken avrebbe sostanzialmente rimarcato l'impegno del governo nel riportare i loro cari sani e salvi dentro i confini, e per quanto non sia stata diffusa nella lista ufficiale degli invitati, fonti del Guardian affermano si tratterebbe dei familiari di persone riconosciute o come ostaggi di paesi ostili, o dal punto di vista degli Stati Uniti perlomeno ingiustamente detenute, perlomeno stando a una legge che risale al 2020 e ha un nome lunghissimo, ve la scrivo qui davanti e ve la lascio in descrizione, il cui fine comunque è quello di dare più strumenti al governo per supportare appunto le famiglie degli ostaggi, quando tali il governo statunitense li riconosca, perché non è che se siete americani e vi fate arrestare all'estero siete automaticamente prigionieri politici, questo è abbastanza chiaro. Quindi, se il discorso è quello di persone incracciolate ingiustamente all'estero, come mai non vengono coinvolti i familiari delle persone arrestate in Egitto e in Arabia Saudita? Se lo chiedono in tanti. Se sull'Egitto non si sono fatte ipotesi infatti, sull'Arabia Saudita molti hanno un'idea piuttosto precisa, ossia che Biden avesse tutto l'interesse a non incrinare i rapporti con Bin Salman, da cui andrà in visitata una settimana circa, per parlare principalmente di petrolio. E se il Dipartimento di Stato si è rifiutato di rispondere a queste critiche, un funzionario avrebbe poi riferito che, se alcuni nomi non erano nella lista, evidentemente quei prigionieri non rispettavano i criteri istituiti dalla legge di cui parlavamo prima, su chi sia o no un ostaggio. Risposta però giudicata da alcuni come una semplice scusa, anche per un altro motivo piuttosto importante. La visita di Biden a Bin Salman è infatti un cambio di rotta di un certo peso, direi, rispetto alle affermazioni del Presidente durante la sua campagna elettorale. Un cambio di rotta bello importante. Nel 2019, infatti, e poi di nuovo poche settimane dopo il suo insediamento, Biden stesso aveva infatti promesso che avrebbe reso l'Arabia Saudita un cosiddetto Stato paraia, che potremmo tradurre come reietto, uno Stato da isolare, citando principalmente il coinvolgimento del principe saudita Bin Salman nell'uccisione di Jamal Khashoggi, il giornalista del Washington Post, nonché dissidente e oppositore di Salman. Ma evidentemente tutte queste belle parole si rivelano essere solo quello. Le parole, dato che sono state in forte contrasto con le decisioni poi prese successivamente da Biden, tra cui quest'ultima, cioè di andare da lui personalmente in visita al principe. Molto male, insomma, ed è quindi normale che le persone facciano 2 più 2 e indichino l'assenza di familiari di persone detenute in Arabia Saudita in questo famoso evento come una diretta conseguenza di queste politiche. Ora, come accennato, uno degli argomenti principali della visita sarà il petrolio, e non è difficilissimo immaginarsi il perché in questo momento storico. Washington sta cercando nuovi partner commerciali o vecchi rapporti da potenziare, avendo da poco imposto lo stop totale alle importazioni di petrolio grezzo dalla Russia. Scelta che quindi necessita di trovare nuovi partner che possano soppiantare Putin. L'abbiamo visto succedere più o meno in tutto il mondo, anche per il gas. Ma non è finita qui, perché quella in Arabia Saudita sarà solo una delle visite a una serie di paesi del Medio Oriente, perché Biden, visto che c'è, andrà anche in Israele, e così facendo seppellirà ancora di più la sua amministrazione sotto le critiche, specie a causa della recente uccisione della giornalista di Al-Jazeera, Shina Buakle, in Giordania. Però perché? Perché le critiche in questo specifico caso? Perché già da subito si ipotizzava che il proiettile che ha ucciso la giornalista, che vi ricorderete è morta mentre copriva un raid israeliano in Cisgiordania, che al momento dello sparo era munita di pettoline casco per farsi riconoscere in qualità di giornalista, risalisse in realtà ad armi da fuoco di proprietà israeliana, che significa che quindi le avevano sparato non i palestinesi, come si era detto, ma proprio l'esercito israeliano, come peraltro testimoniato dai suoi colleghi li presenti. La morte di Abu Akleh era quindi stata l'inizio di una serie di attacchi a livello internazionale nei confronti del governo Bennett. Un po' perché era una delle voci più importanti e conosciute quando si parla di Palestina, un po' perché la reazione iniziale dell'esercito e del governo è stata quella di incolpare i palestinesi, per quanto indagini del New York Times avessero rivelato come non ci fosse nessun palestinese munito di armi da fuoco nelle vicinanze, e questo senza contare che ve lo ricorderete, qualche giorno dopo l'uccisione c'era pure stata la scenetta edificante della bara che vola durante il funerale, quando le forze armate israeliane avevano caricato la folla, comprese le persone che mantenevano la bara. Insomma, sino all'ultimo non c'era palesemente stata la volontà di impostare delle vere indagini su chi avesse realmente sparato, per quanto di nuovo, grande spoiler, tutti gli indizi portano alle forze di difesa israeliane. Ora, la novità è che domenica un portavoce dell'esercito ha finalmente annunciato alla radio un test forense sul proiettile per stabilire appunto chi avesse sparato in quelle circostanze. Test forense realizzato con supervisione statunitense, cosa che secondo alcuni non avrebbe dato molte garanzie. E a quanto pare del risultato di questo test si sa già qualcosa, perché ieri il Dipartimento di Stato ha fatto alcune dichiarazioni dicendo di aver osservato i test balistici israeliani e concludendo poi che il proiettile fosse troppo danneggiato per avere la certezza della dinamica, come la posizione esatta da cui il proiettile è partito, no? Ammettendo poi che sebbene ci fosse una forte possibilità che quest'ultimo provenisse dalle file militari israeliane, l'esatta dinamica e quindi le responsabilità non si possano in definitiva stabilire. Anche se lo ripetiamo, pare che i militari israeliani fossero gli unici armati in quel momento. Quindi. Gli ufficiali statunitensi, infatti, e il Portal Times, definendo l'indagine inconcludente, hanno anche sottolineato come la morte della giornalista non fosse da considerarsi intenzionale, e quindi le hanno sparato di proposito, ma piuttosto il risultato delle circostanze caotiche e drammatiche dell'operazione militare. E capiamo bene che queste dichiarazioni, che non mettono un punto alla questione, che è considerata ovviamente gravissima da tutti gli osservatori e dall'opinione pubblica internazionale, mettono gli Stati Uniti in una posizione di fragilità, perché sono sostanzialmente accusati di sminuire le colpe dei militari israeliani nonostante tutto, e di farlo ovviamente per ragioni strategiche. Un po' come per cascio oggi, insomma, e il fatto che siano sempre i giornalisti a essere immolati sull'altare dell'utilitarismo politico, anche dalla nazione che si vanta di essere la più libera del mondo, anche da questo punto di vista, insomma, bene bene non fa l'amministrazione Biden, che però sembra abbastanza convinta di voler perseguire questa strada. E lì va. In ultimo dobbiamo un attimo fare un discorso sulla Corea del Nord, e in particolare sul modo in cui il paese sta facendo di tutto per far fronte alle sanzioni economiche imposte dalla comunità internazionale e risollevare la sua condizione economica, che potete immaginare, anzi già lo saprete, è tutto forcherosea. La notizia è che, quando dico di tutto, intendo proprio letteralmente qualsiasi cosa, perché non parliamo dello stile russo di evasione delle sanzioni, per così dire, quindi niente conti rubli, niente ricati all'Europa sul gas, ma parliamo di metodi molto più subdoli, come il furto plateale di denaro tramite le criptovalute, il traffico di armi di droga, il riciclaggio, cioè quel tipo di cose che normalmente non è che le faccia uno stato, è più una roba di imprenditori privati, diciamo. La Corea del Nord è di base un paese povero, che ha consapevolmente scelto di isolarsi da buona parte del resto del mondo, sia materialmente, quindi con politiche migratori e muri invalicabili, che digitalmente, e non a caso viene definito come un regno eremita, totalmente scollegato dal resto del pianeta. Fate conto che dal punto di vista economico il paese è molto in basso nelle classifiche mondiali, sia per quanto riguarda il prodotto interno lordo, che il pil pro capite, e questo è dovuto a tanti fattori, compresa la grande quantità di sanzioni a cui il paese è sottoposto, che colpiscono banche, beni di lusso, importazioni di valutipo. Ciò che rende la Corea del Nord tanto affascinante è proprio che questa realtà del paese contrasta poi con l'immagine che noi vediamo da fuori, cioè quella di un paese che, nonostante tutto, è in grado, ad esempio, di permettersi test missilistici, anche di tipo intercontinentale. Stessi test che, peraltro, uniti ai test nucleari, sono proprio la causa di buona parte di queste sanzioni. Quindi, domandona, ma allora, i soldi per fare tutte queste robe, da dove arrivano? Ecco, stando al New York Times, una delle imprese che più di tutte porta fondi alle casse del partito è sicuramente quella del furto di criptovalute. Per darvi un'idea dei numeri di cui stiamo parlando, solo nel 2022, che quindi ancora non è finito, siamo a metà, il paese avrebbe raccimolato più di 800 milioni di dollari, cioè la cifra più alta degli ultimi anni. Come si vede da questo grafico realizzato da 100 analisis, infatti, che si occupano di queste tematiche, la cosa va avanti da parecchio, e questo perché la Corea del Nord si è concentrata da subito sulle cripto e sulla blockchain come metodo per evadere le sanzioni e finanziare lo sviluppo di armi. Nel caso steste pensando, ok, 800 milioni, ma non sono così tanti per uno stato, dipende dai punti di vista, perché per uno stato moderno forse non sono tanti, ma fate conto che le esportazioni del paese nel 2020 ammontavano a decine di milioni, sostanzialmente significa che la Lombardia esporta più dell'intera Corea del Nord, perlomeno, secondo i dati del 2020. Ora, seguitemi su questo che è affascinante, perché uno dei casi di furto più recenti è quello relativo al videogioco Axie Infinity, cioè la roba che vedete a schermo in questo momento, se state guardando, e si tratta di un giochino sviluppato da una compagnia vietnamita, la cui economia si basa sulla blockchain di Ethereum, ovvero la crypto probabilmente più famosa dopo i Bitcoin. Spiegato molto semplicemente, nel videogame era possibile accumulare una valuta di gioco, che era poi possibile convertire o in Ethereum o ancora in dollari, ovviamente commerciando con queste crypto. Ma ad aprile di quest'anno è emerso come la Corea del Nord fosse dietro a un attacco che ha comportato il furto di più di 600 milioni di dollari in crypto di gioco, che poi sono state rivendute per il loro valore in denaro, peraltro, senza lasciare grosse tracce. E la cosa che colpisce più di tutte è che questo avviene in un paese che non solo è per buona parte offline, ma in cui sono pochissimi a possedere un computer, elemento che quindi porta a pensare che lo Stato addestri letteralmente le persone da zero, proprio al fine di operare questi attacchi. Ed è esattamente così. Tenete infatti conto del fatto che la Corea del Nord, per quanto povera, ha investito talmente tanto nell'istruzione tecnologica da avere tra gli hacker migliori al mondo, proprio perché questi vengono addestrati per esserlo direttamente dal governo, come fossero asset militari. Parliamo infatti di migliaia di persone che poi il governo utilizza per svariati impieghi, da appunto queste operazioni con le crypto, al più classico cyber-spionaggio. E infatti non sarebbe la prima volta che sentiamo parlare di attacchi informatici provenienti da quella zona del mondo. Poi, ovviamente, quando vai a vedere nel dettaglio, ti scende anche un po' la depressione, perché a quanto pare l'attacco ad Axie Infinity è stato fatto infettando il computer di uno dei dipendenti con il classico file world infetto. Però tutto questo va un po' in contrasto con l'immagine che tanti di noi hanno della Corea del Nord e della sua leadership, perché è evidente che Kim Jong-un e il suo cerchio magico abbiano una conoscenza del mondo molto superiore di quella che noi tentiamo ad attribuirti. Ecco. Ora, però, vorrei che fosse chiara un'ultima cosa. Cioè, noi non stiamo parlando di un paese finto povero, per così dire, che quindi si finanzia con i fondi sommersi e che nasconde i capitali, perché poi la povertà è evidente e basta grattare un attimo che vengano alla luce tutti i disagi che la popolazione è costretta a subire. Per dire, il governo pare investa tantissimo nel costruire grattacieli bellissimi e di lusso, anche se non si capisce bene perché, con questi soffitti bassissimi, forse per farci stare più gente, non so perché. Ma la cosa interessante è che all'ultimo piano di questi edifici, contrariamente alle aspettative, vivono le persone più povere e indigenti. Perché? Perché pare che il paese abbia così tante difficoltà nella distribuzione delle energie e nella manutenzione che gli ultimi piani sono perso che invivibili, trascensori che non funzionano, problemi di approvvigionamento dell'acqua, in generale una scarsa qualità delle costruzioni. O poi i problemi sono tantissimi e sono molti, però questa è una curiosità che probabilmente non sapevate. Come non sapevate? Che probabilmente le vostre cripto di Axie Infinity, se giocavate ad Axie Infinity, adesso c'è Riakim Jong-un. E lui seduto, credo che si chiamassero Love Potion, non mi ricordo bene come si chiamavano quelle cripto. Comunque è incredibile. E poi ci fanno i missili e poi ci fanno i missili. È una timeline fantastica. Insomma, questo era tutto per oggi. Grazie per aver guardato. Al solito se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube, così non vi perdete nessun video o a cercare il canale Telegram dedicato alle notifiche. Lo trovate in descrizione. E vi ricordo ancora che il progetto è sostenuto da un sistema di abbonamento, il Breaking Italy Club, che finanzia tutto e permette di accedere ad alcuni privilegi e ad alcuni contenuti speciali. Al solito, grazie a tutti quelli che continuano a sostenerci e ci permettono di investire, di fare delle nuove cose, di far crescere la redazione. Anche la relazione. Ma soprattutto, di diventare grandi. Accrescersi nelle relazioni e un po' diventare grandi, no? È quello che volevo dire. Quindi... Dai, a domani!